ciao a tutti cuoricini e cuoricine come state spero bene allora io sono qua con voi per farvi vedere un pacchettino che mi è arrivato da sheen allora il pacchettino è questo qui io ho già sbirciato per essere sicura che fosse sheen perché mi devono arrivare anche altre cose da da aliexpress e vabbè non voglio spoilerare niente già l'ho fatto comunque vi faccio vedere il contenuto di questo pacchettino allora prima di tutto abbiamo questo guanto da forno semplicissimo però perché l'ho prete perché rosa perché in giro non riesco a trovare un guanto per il forno rosa allora l'ho visto subito su sheen e me lo sono accaparrato comunque di non mi dimentico di dirvi che lascerò il link di dei prodotti comunque vediamo questo qui le forbici e niente è un semplice guanto da forno che adesso io indosserò per voi ecco qui ciao è bellissimo stupendo stupendo rosa vabbè è un semplice guanto da forno però rosa ci piace poi ho preso questi adesso vi faccio vedere che vi ha poi sto vedendo se ha già la linguetta senza che usano le forbici sì ah in pratica sono questi qua per chiudere i pacchettini cioè che avete nella credenza e sono da chiudere magari tipo non lo so con lo scotch o cose varie poi voi prendete questi qui e lo chiudete guardate sono rosa fatti così e si aprono e così si chiudono e ne sono ben 1 2 3 4 5 sono 6 guardate tutti e 6 eccoli qui poi passiamo a una cosa che mi è piaciuta troppo la volevo prendere spero tanto che non sia piccolina però ahimè secondo me sì questo è diciamo per mettere le buste del fattumo all'interno aspettate che apro un attimo qui vi spiego subito allora questo grazie a questo adesivo super potente lo attaccate al muro e qui guardate cioè in pratica secondo me è al contrario pardon così e lo aprite lo aprite lo aprite all'interno ci posizionate le buste le vostre buste classiche che usate per il pattume e niente cioè esce è così cioè tirate via ogni bustina senza fare casino senza fare casino e niente comunque è carinissimo qui c'è scritto qua queen rong forniture produsso andate e comunque ci piace devo ancora capire bene cioè devo ancora capire bene però c'è tempo poi ho preso sono in base dalle bustine comunque ho preso questi cucchiaini perché a me a casa cioè a noi vanno via come il pane non lo so perché si buttano e sì li buttiamo cioè togliamo la tavola e non li troviamo più comunque comunque sono questi stavolta niente cuore non li ho presi a cuore li ho presi semplicemente adesso ve lo faccio vedere subito allora sono incartati singolarmente e sono fatti così sono semplici come piacciono al resto della famiglia anche se io li volevo a cuore però ho detto vabbè stavolta non lo posso e niente come vi ho già detto lascio in info box il link dei prodotti e niente ragazzi io vi auguro una buona giornata ma prima se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella così sarete sempre aggiornati sui nostri video e lasciate un like a questo video se vi è piaciuto noi come sempre ci vediamo al prossimo video e ciao